Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e anche oggi come ogni settimana un nuovo video a tema Harry Potter. Oggi unboxing, unboxing coatto perché su 5 pacchetti, ben 4, sono a tema potteriano. E poi volevo anche mostrarvi dei miei acquisti e altri arrivi, visto che è da un po' di tempo che mi perdo con la programmazione quindi volevo recuperare un po' di pacchetti anche perché camera mia sta per esplodere. Ho tantissime cose da mostrarvi, tantissime cose arretrate, ma magari farò una live dove ve ne parlerò e vi mostrerò un po' tutto quello che arriverà nelle prossime settimane, così da stuzzicare un po' il vostro appetito. Ma ragazzi, detto questo, prima di cominciare vi ricordo che qualora voleste acquistare qualche magliettina a Dema Nerd potete utilizzare il codice 7Potter sul sito Pampling, io oggi indosso questa che è una felpa che utilizzo spessissimo e ragazzi, never forget, abbiamo un floppy disk, una videocassetta e anche una cassettina musicale questa mi ha letteralmente rapito quando l'ho vista sul sito e l'ho presa subito ma anche oggi avremo un'altra magliettina potteriana molto molto bella detto questo, cominciamo dagli acquisti non potteriani, dai pacchi non potteriani che li lasciamo in fondo al video bene, sono solamente due le cose non potteriane la prima è questa, si tratta di un pacco, il pacco mensile che mi arriva da Universal Video Home Entertainment e ragazzi, sono curiosissimo vediamo cosa c'è all'interno questo mese e ecco qui, abbiamo due cose la prima, no, fighissima ragazzi fighissima la prima, eccola qui si tratta della collezione dei film di Senti Chi Parla Senti Chi Parla 1, Senti Chi Parla 2 e Senti Chi Parla Adesso beh, il primo ragazzi, io da ragazzino l'avrò visto centinaia di volte da bambino lo vedevo a casa dei miei nonni soprattutto nel periodo delle feste lo facevano davvero spesso ultimamente devo dire che lo si vede molto meno in televisione è con John Travolta e Kirstielli ragazzi, a me faceva tantissimo ridere soprattutto la voce di Paolo Villaggio e poi Senti Chi Parla 2 e il 3 invece è quello lì con gli animali domestici sono loro ad avere delle voci e ragazzi, io li ho amati i film di Fantozzi e i Senti Chi Parla assolutamente i miei preferiti e qui in questo bel cofanetto azzurro li abbiamo tutti e tre cofanetto di Sony Pictures Home Entertainment in questo caso e andiamo ad aprirlo vediamo come sono i dischi all'interno ecco qui all'interno della nostra copertina abbiamo i tre DVD con i tre film separati e abbiamo le serigrafie credo si chiamino così nel caso correggetemi nei commenti in lingua inglese quindi è la versione inglese dei dischi però all'interno naturalmente abbiamo l'audio in italiano e la copertina è in italiano sul retro abbiamo tutte le specifiche per ogni film e ragazzi davvero sono super contento di averli così li potrò rivedere quando mi piacerà a me e poi ragazzi qui abbiamo un pezzo di scotch attaccato ecco qui abbiamo una delle uscite che più aspettavo perché non vedevo l'ora di rivederlo soprattutto in questa versione che è la versione Blu-ray 3D si tratta di Venom Venom che entra a far parte dell'universo Marvel ufficialmente e entra diciamo stravolgendo leggermente la storia dei fumetti io l'ho già visto al cinema mi era piaciuto molto e sono molto curioso di vederlo in 3D visto che ho anche un TV 3D in salone sono molto curioso di vedere come rende questo film abbiamo Tom Hardy protagonista di questa pellicola a me è piaciuto parecchio ho sentito pareri discordanti ma a me è piaciuto davvero molto e mi piace molto questo personaggio Venom perché comunque è molto combattuto è una dualità molto contrastante tra la vita del nostro protagonista di Eddie e poi abbiamo questo alieno che vive dentro di lui e quindi abbiamo questa continua dualità del personaggio che mi piace davvero tantissimo in questo caso la sua parte umana nel film è stata resa tra virgolette più buona che va a contrastare con la parte cattiva e invece contrariamente nel fumetto si punta molto al fatto che siano stati dati dei cattivissimi poteri ad una persona molto cattiva già di base quindi in questo caso questo aspetto è stato un po' smussato probabilmente visto che abbiamo lo zampino in Marvel di Disney e devo dire che comunque secondo me è stato fatto un bel lavoro con questo personaggio che non vedo assolutamente l'ora di rivedere visto che comunque questo primo film è un po' come tutti i primi film dei supereroi o comunque delle loro nemesi è un po' un'introduzione al personaggio perché veniamo a scoprire come nasce Venom quindi è un po' una genesi di questo personaggio che ha comunque una sua storia una sua evoluzione all'interno già di un solo film che ha una durata abbastanza corposa di circa due ore e venti se non ricordo male quindi ragazzi qualora foste interessati naturalmente troverete i link in info box sia di Venom che del cofanetto di Senti Chi Parla grazie mille a Universal Picture Home Entertainment per questi invi del mese e poi ragazzi voglio anche segnalarvi dei miei acquisti non che la cosa vi possa interessare particolarmente ma mi fa piacere condividere con voi il fatto che finalmente mi sono convinto ad acquistare una console e alla fine di tutti i miei vari ripensamenti ecco che ho deciso di optare per la Playstation 4 perché ho già avuto da bambino la Playstation 1 poi ho acquistato la Playstation 2 e poi un buco temporale enorme in mezzo dove non ho avuto nessuna console per questioni di tempo di studio di lavoro e ora finalmente anche grazie ai consigli di Gianluca di Raiden ecco che ho deciso di prendere la Playstation 4 che deve ancora arrivare ma mi sono già fornito di qualche gioco e ragazzi consigliatemi nei commenti cosa acquistare quali sono i giochi imperdibili perché io sono totalmente fuori da questo mondo da tantissimo tempo e per fortuna sto recuperando tantissimi video dei player inside che tra parentesi sono catanesi come me e grazie alle loro news alle loro recensioni sto un po' cercando di capire cosa fa per i miei gusti intanto ho preso Far Cry Primal che è il Far Cry ambientato nella pre-storia nell'epoca degli uomini primitivi ci sono i mammut e questa cosa a me fa letteralmente impazzire sono fan dei dinosauri anche se qui dinosauri fondamentalmente non ce n'è però mi attrae tantissimo questa ambientazione quest'open world e poi ho preso ragazzi Crash la trilogia questo dovevo per forza prenderlo Crash scusate ho detto Crash come lo dicevo da bambino Crash la trilogia questo qui l'ho giocato fino alla nausea da ragazzino e ora finalmente l'ho recuperato perché rimasterizzato non potevo perdermelo soprattutto tutti e tre capitoli in un unico disco ho già ordinato anche Spiro che dovrebbe arrivare tra poco e ragazzi poi ho anche ordinato un altro classico che è arrivato giusto ieri sempre questo su Amazon GTA 5 tutti i videogiochi che comunque tutti i giochi i videogiochi sembro mio nonno quando li chiamo così tutti i giochi che comunque conosco già perché ci giocavo da ragazzino tranne Far Cry e ragazzi quindi per favore aiutatemi a scegliere gli altri giochi da acquistare perché sono totalmente fuori da questo mercato da tantissimo tempo detto questo passiamo alla parte dedicata a Harry Potter quella che aspettate tutti lo so e cominciamo da questo primo pacchetto che è un mio acquisto che ho fatto qualche settimana fa su Facebook in uno dei gruppi dedicati ad Harry Potter ed è un pezzo che cercavo da un bel po' si tratta di un misteri mini della serie Animali Fantastici io di quella serie volevo questo pezzo e anche qualche mini snaso i mini snasi non li ho ancora recuperati non ho neanche perso tanto tempo a cercarli a dire il vero ma sono contentissimo di aver trovato questo che è il pezzo che più volevo non l'ho pagato nemmeno tanto se non sbaglio intorno ai 12 euro non vorrei dire una fesseria ma ragazzi secondo me li vale tutti come saprete io sono fissato con le proporzioni dei pop e dei loro animali fantastici e quindi si ho acquistato entrambe le versioni del Chupacabra ma io volevo una versione un po' più proporzionata perché dopo aver visto il film mi sono accorto che è davvero piccolo il Chupacabra è un animaletto domestico di Grindelwald ed è per questi motivi che ho deciso di recuperare appunto il mini del Chupacabra eccolo qui è davvero molto molto bello più bello di quanto mi aspettassi è una versione un po' più grandicella di quella che avrei voluto ma facciamo finta che quello visto nel film sia un cucciolo di Chupacabra e questa invece è una versione più matura e lo affiancherò al pop di Grindelwald sono davvero molto molto contento perché lo trovo più bello della versione Funko Pop che a questo punto per me per i miei gusti è decisamente fuori scala come ad esempio non prenderò assolutamente il Funko Pop di Nagini perché è troppo troppo grande troppo smisurato sembra quasi un basilisco se possiamo fare un paragone con le proporzioni del Funko Pop regolare quindi no non lo prenderò ho già il misteri mini di quello e in questo caso credo che a questo punto venderò i due che ho acquistato su MP quello lì esclusivo quello regolare perché terrò assolutamente questo qui ditemi cosa ne pensate nei commenti a me piace tantissimo non è neanche rarissimo trovarlo credo sia 1 su 24 la proporzione quindi non difficilissimo e comunque si può reperire anche su ebay a cifre più o meno simili a quella che ho speso io quindi intorno ai 12 15 euro è ancora fattibile come cosa davvero molto molto contento ma passiamo al prossimo pacco che invece arriva proprio da pampling pacco da pampling di una maglietta che volevo prendere da un sacco praticamente su youtube ce l'hanno tutti da tantissimo tempo io per un motivo o per un altro ho sempre rimandato e finalmente eccola qui ragazzi sono riuscito a prenderla si tratta di una delle magliette che forse hanno più avuto successo su pampling ed è questa qui quella di harry potter naturalmente si tratta di hogwarts in stile van gogh a me piace tantissimo questo stile notte stellata fuso con il castello di hogwarts e le bacchette sotto con gli studenti del primo anno ragazzi ditemi se non è bellissima questa maglietta la userò tantissimo sono già sicuro non so perché ho aspettato tutto questo tempo per prenderla e ragazzi naturalmente qualora foste interessati ad acquistare questa maglietta vi lascio il link sotto in info box e potrete naturalmente utilizzare il solito codice sconto 7 potter per avere il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti fatti su pampling i prossimi due pacchi invece sono già aperti e vi spiego il motivo il motivo è molto molto semplice io di recente dopo le feste natalizie ho reso pubblica la mia lista dei desideri di amazon dove metto dentro tutta la roba che ho sempre messo in passato ma che era solamente per mio uso personale era privata tutta la roba che mi piacerebbe portare sul canale sia a tema Harry Potter ma anche a tema magari trono di spade accessori per realizzare i video e quindi l'ho resa pubblica come tantissimi altri miei colleghi e in questo modo voi potete entrare dentro la mia lista dei desideri e spulciare magari guardare cosa porterò in futuro sul canale cosa sto tenendo sott'occhio in questo periodo magari per voi acquistare cose per conto vostro e prendere spunto dalla mia lista dei desideri e per chi lo volesse è possibile anche acquistare le cose presenti nella mia lista e farmela avere direttamente a casa con un bigliettino all'interno con un messaggio personalizzato e poi questo pacco verrà aperto qui sul canale naturalmente dove vi ringrazierò tantissimo per il contributo e per la collaborazione alla realizzazione dei video sul canale e ragazzi quindi questa cosa è già avvenuta velocemente sono arrivati due pacchi io naturalmente non so che sono in arrivo questi pacchi Amazon non mi avvisa e quindi li ho aperti pensando che fossero miei ordini e poi invece all'interno ho trovato delle cose a sorpresa che io avevo messo nella mia lista con dei bigliettini quindi magari in futuro se qualcuno dovesse acquistare qualcosa della lista e mandarmela ragazzi se vi può far piacere che io proprio la apra in diretta senza sconfezionare la prima magari avvisatemi su Instagram qui nei commenti su Facebook da qualche parte ditemi che mi avete inviato qualcosa così io non aprirò il pacco prima ragazzi detto questo passiamo a questi due pacchetti così vi mostro cosa mi è arrivato il primo è un regalo natalizio è un regalo di Natale che mi è stato inviato a sorpresa dalla mia amica Martina Martina del canale Martinao che sicuramente molti di voi conosceranno e qui abbiamo anche il bigliettino che vi ho detto prima dove c'è scritto un regalo di Natale ritardo molto ritardo spero possa piacerti comunque Martina io l'ho già ringraziata a tempo debito ragazzi sono super contento che mi abbia inviato questo volume si tratta di Mielandia ho già postato una foto su Instagram ragazzi mi raccomando seguitemi su Instagram perché lì porto sempre tante novità tante cose in anteprima foto spoiler opinioni nelle storie quindi qualora vi facesse piacere Antonio.seria su Instagram questo libro è molto molto particolare credo che ve lo recensirò a parte perché è un libro che si gratta e si odora davvero molto simpatico sopra le mie aspettative più bello di quanto mi aspettassi l'avevo in lista da diversi mesi e Martina ha deciso di farmelo avere così a sorpresa quindi grazie ancora tantissimo Martina per il regalo di Natale super super gradito e poi secondo pacco che invece mi avete inviato sempre voi eccolo qui questo qui me l'ha mandato dentro c'è il bigliettino ecco qui Cristina Cristina io ti ringrazio tantissimo davvero mi raccomando contattami su Instagram se hai modo così possiamo fare una chiacchierata e posso anche ringraziarti in privato sei stata davvero super super gentile non me l'aspettavo un piccolo pensiero per te per sostenere il tuo canale per comprare la tua amicizia non è assolutamente necessario scherzo ovviamente ho adorato questo taccuino dal momento che l'ho visto anch'io tantissimo sarebbe stato uno dei miei prossimi acquisti di questo mese e spero possa piacere anche a te un abbraccio Cristina io ragazzi tutti questi bigliettini comunque li conserverò non ho già tanti messi da parte con tutti i regali che mi avete fatto e ci farò sicuramente qualcosa rimetterò tutti insieme da qualche parte qui in bella vista prima o poi e mi ha inviato questa agenda che ragazzi è bellissima arriva dai crimini di Grindelwald ma la cosa bella è che è esattamente una replica della prima edizione di Animali Fantastici dove trovarli quella che si sarebbe dovuta vedere nel film i crimini di Grindelwald quella che proprio in persona presenta al Ghirigoro noi vediamo solamente una foto di questa presentazione sul giornale sulla gazzetta del profeta ma ragazzi è davvero bellissima io vado ad aprirla questa la aggiungerò subito alla mia collezione e presto acquisterò anche le repliche dei sei titoli di testo di Hogwarts che sono in vendita da Mina Lima sul loro sito ufficiale si tratta di sei repliche dei libri più conosciuti della saga di Harry Potter all'interno della saga di Harry Potter si tratta di storie di Hogwarts storia della magia incantesimi per principianti il libro di pozioni del principe mezzosangue le storie di Bedelbardo è un altro che al momento non ricordo e ragazzi sono davvero bellissimi costano una fucilata costano quasi 100 euro ma sicuramente li prenderò e questo qui verrà messo assieme a quelli ecco è presente anche la versione di animali fantastici dove trovarli che si vede all'interno dei film di Harry Potter che è successiva questa qui ma bando alle ciance tiriamola fuori togliamo questa parte qui no non è possibile toglierla ragazzi è davvero tanto tanto bella ecco qui animali fantastici e dove trovarli è bellissimo davvero molto molto bello le pagine sono dorate qui nella parte esterna e all'interno è semplicemente un'agenda un quaderno a righe che io non utilizzerò mai nella vita ma è davvero super super bello qui abbiamo anche una tasca dove poter mettere degli appunti e abbiamo anche il titolo sul fronte in Ups Commander animali fantastici dove trovarli qui anche sulla costa è tutto stampato in oro a me piace fa impazzire è bellissimo e trovate naturalmente il link sotto in info box e non credo che sia ancora all'interno della mia lista dei desideri perché man mano che le cose vengono acquistate spariscono come per qualsiasi lista dei desideri privata ragazzi detto questo io ringrazio ancora tantissimo Cristina e Martina grazie grazie davvero tante e con questo ragazzi è tutto io vi ringrazio sempre tantissimo per aver visto il video fino alla fine grazie tantissimo per l'affetto che mi dimostrate per tutti i messaggi che mi inviate quotidianamente su Instagram e su Facebook io davvero non so come ringraziarvi spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia spero di avervi dato dei suggerimenti per i vostri acquisti futuri in tantissimi mi scrivete che ahimè sono la vostra rovina perché vi faccio spendere tantissimi soldi ma ragazzi godiamoci un po' la vita e spendiamo qualche soldo in cose futili che servono anche quelle secondo me e ragazzi niente detto ciò io do un taglio alle ciance e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video potteriano mi raccomando lasciate un mi piace commentate condividete il canale con i vostri amici iscrivetevi al canale quando non foste iscritti seguitemi su Instagram è tutto quello che vi dico continuamente e ragazzi io a questo punto vi devo proprio salutare ciao ciao ciao